saluto a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come smontare una ruota per prima cosa bisogna prendere il click vedete che il click a questa parte qui sotto la macchina c'è questa linguetta qui dove va attaccato questo punto del click adesso vi faccio vedere posizioniamo il nostro click più basso della lettura abbassiamolo leggermente ok adesso ancora troppo no adesso c'entriamo la tocchiamo con la linguetta andiamo a incastrare la linguetta abbassandolo vedete così la linguetta deve essere in precisione e andiamo a tirare su con questa leva poi alziamo la macchina leggermente giusto che non tocchi la ruota a terra per andare a svitarla ovviamente ci servirà anche questa chiave e questa chiavettina adesso vi farò vedere perché volta un po' alto alla terra andiamo con questa chiavetta adesso sono molli però andiamo a svitare andiamo il primo colpo che nel solito è duro ecco qua poi con questa chiavettina qua andiamo a svitare più velocemente ogni vite rispetto alla chiave grande possiamo farlo anche con le mani questo ci aiuta leggermente se abbiamo un coppacerchione o un cerchio che li ha incassati ok una volta fatte tutte quattro le viti andiamo a togliere la ruota facilmente la spostiamo ok e la mettiamo da parte prendendo quella nuova questo è tutto se questo mini tutorial vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al mio canale alla prossima grazie